Ciao bambini, oggi leggiamo un libro dolce, La strada di cioccolato. Tre fratellini di Barletta, una volta, camminando per la campagna, trovarono una strada liscia liscia e tutta marrone. Che cosa sarà? disse il primo. Legno non è, disse il secondo, non è neanche carbone, disse il terzo. Per saperne di più, si inginocchiarono tutti e tre e diedero una leccatina. Era cioccolato, era una strada di cioccolato. Cominciarono a mangiarne un pezzetto, poi un altro pezzetto e un altro pezzetto ancora, finché venne la sera. I tre fratellini erano ancora lì che mangiavano la strada di cioccolato, finché non ce ne fu più neanche un quadratino. Non c'era più né il cioccolato né la strada. Dove siamo? domandò il primo. Non siamo a Bari, disse il secondo. Non siamo neanche a Molfetta, disse il terzo. Non sapevano più come fare a tornare a casa. Per fortuna, ecco arrivare dai campi un contadino col suo carretto. Vi porto a casa io, disse il contadino. E li portò fino a Barletta, fin sulla porta di casa. In smontare dal carretto, si accorsero che era fatto tutto intero di biscotto. Senza dire né uno né due, cominciarono a mangiarselo e non lasciarono né le ruote né le stanghe. Tre fratellini così fortunati a Barletta non ce l'hanno mai stati prima di allora. E chissà quando ci saranno ancora un'altra volta. Ciao bambini!